Si respira meglio a Padova, scendono i giorni di sforamento del livello di PM10, 12 nel 2017 e 60 nel 2018, cala anche la media annua di biossido di azoto. Sono tra i quattro parametri di miglioramento che hanno permesso alla città del Santo di scalare la classifica dell'ecosistema urbano stilato dalle Gambiente e passare dal 51esimo a un lusinghiero 36esimo posto. Qualcuno dice non facciamo niente, invece non è vero, facciamo qualcosa. Stiamo investendo parecchio su questo argomento, per cui da bike sharing, car sharing, cercamo il potenziale di Neltran, cercamo che gli autobus sia il servizio sempre più frequente. E anche questo è un dato in miglioramento, il trasporto urbano conquista nel 2018 nuovi utenti con un elogio particolare del servizio nightbus, peggiore invece l'ozono come la produzione di rifiuti urbani. Insomma, il lavoro da fare è ancora tanto. Io so che moltissime organizzazioni vorrebbero chiudere tutto, non si passa più, però io non sono mai per fare azioni talebane, sono per buon senso, trovare soluzioni che siano cose logiche. Meglio di Padova nella classifica Treviso, Belluno e Venezia, peggiora la vicina Vicenza. Sindaco di tutti, precisa Sergio Giordani, che in questo primo mese di applicazione non ha mai dovuto far scattare l'allerta inquinamento di livello arancione. Padova è una città senza vento, circondata da una grande zona industriale, da tangenziali, da autostrade, per cui la cosa è difficile. Grazie. 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 Grazie.